Musica Belli ragazzi, eccoci qui in questo nuovo video Questo è un altro paka punch da costruire nella mappa 9 Il senso di questo nome non lo so però vabbè Comunque per prima cosa andiamo a trovare questa stanza diciamo segreta In cui dovremo andare ad ottenere ben 4 teste di 4 mostri diversi Come vedete se andiamo ad interagire con quest'altare ci dirà che sono necessarie delle champions blu Vabbè comunque servono delle teste ragazzi Per farle bisognerà interagire con 4 dong della mappa e fare questi diciamo mini step In cui dovete uccidere questi mostri appunto che vi mandano Questi zombie diciamo particolari Successivamente ci saranno anche le tigri come mostri Anche se non capisco il senso di farvi venire le tigri Comunque vabbè sono tutte cose che avevamo già visto nei trailer della mappa Perciò le avrebbero dovuti mettere in qualche maniera Comunque come vedete ogni dong che sto facendo interagiamo con il pezzo appunto che vi lascia Ecco questa è la parte della tigre molto molto semplice Neanche tanto difficile Comunque dopo aver preso tutti e 4 questi pezzi scendiamo di nuovo di sotto Dove eravamo prima Ed interagiamo con quei 4 diciamo piedistalli che ci sono a terra A questo punto ve li metterò tutte Potete farla anche una volta Probabilmente in assenza A questo punto ve li prendete tutti assieme E comunque dopo più o meno 7-8 secondi Si aprirà il pack a punch e sarete pronti a pack a punch Per questo video ragazzi è tutto Vi ricordo di iscrivervi e lasciare un bel like Bella Ciao